Nuova visita del direttore sanitario dell'ASL Salerno facente funzioni la dottoressa Sara Caropreso questa mattina all'ospedale dell'Immacolata di Sapri per incontrare la direttrice sanitaria del presidio, la dottoressa Maria Ruocco e dei primari del nosocomio del Golfo di Policastro. Obiettivo dell'incontro effettuare una verifica della situazione al termine della stagione estiva in quanto la presenza di migliaia di turisti ha comportato un notevole aumento dei ricoveri e delle prestazioni di pronto soccorso. Soddisfazione per l'attività svolta negli ultimi mesi è stata espressa dalla dottoressa Ruocco che ha evidenziato come il presidio sia riuscito a far fronte alle richieste provenienti dal territorio nonostante le note carenze di personale. La visita della dottoressa Caropreso ha rappresentato anche un momento importante per discutere del futuro dell'ospedale. Abbiamo evitato i tagli che pur erano stati previsti dal precedente piano Zuccatelli, ha dichiarato la Caropreso che ha inoltre assicurato che il presidio sarà potenziato a cominciare dal punto nascita che in virtù della particolare posizione territoriale è stato mantenuto in vita. Stesso discorso è stato fatto per il servizio di emodialisi che come sottolinea la dottoressa Caropreso è uno dei fiori all'occhiello del presidio anche in chiave turistica poiché consente a pazienti che hanno bisogno di dializzare di poter vivere una vacanza serena nelle località del Golfo di Policastro. Accanto al servizio di emodialisi non è da escludere l'istituzione di una unità operativa di nefrologia. Le iniziative già intraprese, quella in programma, concluso la Caropreso, potranno ribaltare anche la situazione relativa alla mobilità passiva che in alcuni casi raggiunge il 24%. A partecipare all'incontro anche il consigliere provinciale Attilio Pierro e il consigliere regionale Giovanni Fortunato che ha assicurato che la politica farà la propria parte impegnandosi per far arrivare i fondi per la ristrutturazione delle strutture e per l'acquisto di nuove apparecchiature tecnologiche indispensabili per assicurare prestazioni migliori. Un fatto è certo, ha detto Fortunato, gli ospedali della parte meridionale della provincia di Salerno non chiuderanno. Grazie a tutti.